Ciao a tutti ragazzi sono Dave e bentornati sul mio canale, eccoci qua con una nuova guida su Remnant 2 e in questa guida vi spiegherò come e dove trovare l'armatura e il set completo del tecnico ma soprattutto come sbloccare l'archetipo, archetipo ancora non ho capito come si dice dell'ingegnere che è molto interessante ci troviamo nell'orizzonte senza tempo, non sono sicuro che si possa trovare solo qui ma anche guardando su internet l'hanno trovato tutti qui a questo punto quindi presumo che si trovi solo qui sul pianeta di Nerud dovete cercare il punto della mappa, a bordo mappa con questa conformazione a destra vedrete degli enormi spuntoni, un buco, un'apertura al centro anche se vedete la nebbia la nebbia è quella che vi fa vomitare e a sinistra vedete diciamo questa altura, questa collinetta con gli spuntoni anch'essa sopra, voi dovete essere molto veloci, entrate dentro, vomiterete l'anima ma avrete un momento in cui non vomiterà il vostro personaggio, in questo momento dovrete raccogliere il set completo dal cadavere dell'armatura del tecnico e buttarvi giù e raccogliere il dispositivo alieno a questo punto semplicemente vi lasciate morire e quando responerete avrete ovviamente l'armatura del tecnico che è un'armatura pesante e l'oggetto per sbloccare l'archetipo dell'ingegnere l'ingegnere è una classe abbastanza forte comunque, io non l'ho usata molto ma mi è servita pur essendo a livello basso contro diversi boss che forse avrete visto durante il mio gameplay è veramente forte, sì, assolutamente, qua vedrete qualche gameplay sottofondo per quanto riguarda l'armatura sinceramente non l'ho mai usata perché preferisco l'armatura media quella è un po' pesantuccia, pesa 58 circa se non sbaglio, però potrebbe essere interessante per qualcuno, quindi spero che questa guida possa esservi piaciuta e soprattutto stata utile io comunque vi consiglio di sbloccare questa classe il prima possibile perché vi sarà molto utile anche piazzare l'arma come torretto a me è tornato utile diverse volte quindi niente, vi invito a lasciare un like e un commentino per aiutarmi con l'algoritmo e supportare il canale poi mi raccomando iscrivetevi per altre guide e gameplay anche su Starfield che sta arrivando poi mi raccomando condivisione, campanellina eccetera eccetera io vi saluto e vi ringrazio per la visione, vi vediamo in un prossimo video, l'ovvio, ciao!